Stavano andando da Tessa a fare una visita al cimitero, poi una lite in auto, scendono dalla macchina nei pressi di un ponte sulla provinciale SP216 e la signora Maria Rita Conese viene spinta giù dal marito. Una caduta che non lascia scampo alla 72enne, da tempo afflitta da Alzheimer e che è precipitata a poca distanza dal fiume Osento. E questo quanto raccontato ai carabinieri di Casalbordino e al PM Michele Pecoraro, titolare dell'inchiesta da Angelo Bernardone. L'uomo 75enne, ex metalmeccanico, subito dopo, in evidente stato confusionale, si è costituito in caserma. Qui è stato interrogato e ha ricostruito quanto accaduto in quei folli minuti, indicando ai militari il luogo dell'omicidio. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri. L'anziano attualmente si trova in stato di fermo a Dortona, in attesa della convalida dell'arresto. Il corpo della donna invece è stato recuperato dopo diverse ore di intenso lavoro da parte dei vigili del fuoco ed è stato trasferito a Chieti, dove con ogni probabilità nelle prossime ore si svolgerà l'esame autoptico. Da chiarire cosa abbia spinto l'uomo al folle gesto? Forse l'esasperazione per i problemi di salute della moglie. In paese tutti parlano di una famiglia normale e di un uomo per bene ben voluto. Niente lasciava presagire il dramma che poi invece si è consumato nel giorno di Santo Stefano. L'ispezione cadaverica sul luogo della tragedia è stata eseguita dal medico legale della ASLA Riccardo Di Tanna a difendere l'anziano l'avvocato Vincenzo Cocchino. Sull'inchiesta al momento vige Massimo Riservo.